E c'è una buona notizia sul fronte della produzione e del lavoro in una delle aree critiche della nostra regione. Si profila infatti a Piombino un importante investimento della General Electric con un'importante ricaduta occupazionale. Si parla di circa 200 posti di lavoro. Walter Rizzo. La General Electric, il colosso americano che a base in Toscana ha formalizzato l'autorità portuale di Piombino e la regione la richiesta di poter avere in concessione 200.000 metri quadrati nell'area del porto di Piombino per creare uno stabilimento analogo a quello di Avenza in provincia di Massacarana. La concessione dovrebbe durare 20 anni. A fronte di questa richiesta un preciso piano di investimento, 20 milioni di euro. Si tratta del secondo grande investimento del colosso americano in Toscana in pochi mesi. La cosa darà un battente di assunzioni intorno a 200-300 persone, quindi è una novità davvero importante e fa di Piombino un esempio positivo in cui l'intervento delle istituzioni e la regione in primo luogo hanno prodotto una fase nuova di reindustrializzazione. Abbiamo una Toscana eletta regione di sviluppo per questa importante multinazionale che lavora nel settore delle tecnologie per l'energia, che ha la sua sede a Firenze e poi due punti sulla costa, una è Avenza e un'altra è Piombino e Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di lavoro proprio sulla fascia costiera.